La gara con l'Inter, quali sono le due sensazioni che gara farei? Le sensazioni sono positive, abbiamo dato due risultati importanti in un'ultima domenica e andremo a Milano per evitare le nostre carte e cercare di portare a casa l'Università. Sul tuo contratto ci sono novità? No, no, ci sono novità ma anche l'anno scorso di scadenza, secondo me ci vedremo dopo la primavera senza nessun problema. L'obiettivo è sempre il terzo posto? L'obiettivo è raggiungere l'Europa e sperando di poter raggiungere quella di quanto. Qual è il regalo di Stefano Mauri per i tifosi della Lazio per Natale e per il progetto della stagione? Che promessa si mette a fare come capitano? C'è una promessa in particolare, poi sicuramente darete più per l'ultima partita per prendere al meglio questo anno personale e regalare un terzo posto tra i tifosi internazionali e poi dopo l'anno nuovo, cercheremo di rimanere delle potenziali. Seguiamo, non proseguiamo. Seguiamo, tu è l'ultima Lazio che è arrivata a terza, quella di Regno Rossi, tu è di chiara. Grazie. 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 Grazie.